Da più di 40 anni, la voce amica della tua città, tante generazioni sono passate attraverso i nostri microfoni, acquisendo esperienze e formazione. Questa è Radio Stuni. Accendila sui 9700 e senti la differenza. Oggi ci senti e ci vidi in radiovisione. Scarica con un semplice clic l'app gratuita Radio Stuni. Seguici su Facebook, YouTube, Instagram, la nostra vitrina, il nostro stile e la nostra professionalità su radiostunitv.com. 24.000 volte grazie a voi che siete il risultato del nostro successo.